buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare like e attivare la campanellina grazie mille per avere raggiunto i 1000 iscritti mi raccomando continuiamo così parliamo oggi dell'evento abbastanza raro ma secondo alcuni modelli possibile cioè infatti tra il 23 e il 24 dicembre una lingua gelida con una termica meno 16 meno 20 si metterebbe in moto dalle alti latitudini per scendere verso sud tale evento può essere pronominato come buran poi tale ondata potrebbe colpire gran parte dell'europa centro meridionale anche l'italia con la termica meno 15 meno 16 su gran parte del nord e sul versante adriatico la termica meno 4 meno 8 che avvolgerà tutta l'italia avremo temperature glaciali al suolo con uno zero termico ovviamente a zero metri potrebbe poi favorire anche la formazione di nevicate copiose fino in pianura se tutto venisse confermato vi ricordo che manca davvero molto tempo le tempora e le probabilità di realizzo sono davvero molto basse comprese fra il 5 e il 10 per cento mentre le possibilità di un'ondata di freddo e con nevicate copiose fino in pianura sono attorno al 30 40 per cento 1 il 1 1 1 Grazie a tutti.